Sì, sì, io cosa mi porto a casa? Beh, per me vedere voi quando vi illuminate, quando risplendete, quando fate quel passo è il motivo per cui noi facciamo tutto quello che facciamo perché è solo questo che ci fa venire la voglia di impegnarci così tanto per aiutare anche voi a risplendere, a vedere quella bellezza che io vedo in ciascuno di voi tutte le volte che vi guardo e come vi ho detto stamattina, io quando vedo che non riuscite a vedere la vostra bellezza soffro immensamente e mi arrabbio perché dico ma com'è possibile che non si veda? E invece quando vedo che voi fate quel passaggio, anche quando mi odiate, a me non interessa a me interessa che voi facciate quel passaggio che è importante per voi e che è la chiave di volta per la vostra vita quel passaggio che vi permette di essere più felici, più realizzati e di portare pian piano i vostri doni del mondo o magari anche velocemente io quando vi vedo splendere, vedo che vi accendete, vedo che riuscite a non sentirvi più soli come mi sono sentita io per tanto tanto tempo una strana, una che era inutile che parlasse con gli altri tanto chi l'avrebbe mai capita questa pazza che vedeva cose, che sapeva cose, che riusciva a comprendere le persone quando loro stesse non riuscivano a vederle e quindi io mi porto una grande grande gioia di aver visto voi, tutti quanti, accendervi e risplendere per quello che siete pronti a fare in questo momento quindi vi ringrazio della vostra fiducia di essere stati qua e di esservi messi così tanto in gioco che non è scontato